Timmie è il miglior progetto italico del telco. Abbiamo trovato il nostro network mobile circa il 99% della popolazione italiana. Come un telco, il nostro principale è di ottenere il numero più alto di clienti con servizi di qualità e sicurezza. L'Italia è la top 10 list di paesi in Europa che soffrono di attacchi cyberattacchi, quindi è cruciale per noi avere una soluzione forte. Con il mobile mobile TeamSafe, creato da Cisco Umbrella per i piccoli e migliori business, mitigiamo la proliferazione di attacchi cyberattacchi. In questo modo, i nostri clienti possono portare il loro business senza alcun tipo di interferenza sulle esperienze, sia sui dispositivi mobile e sui laptop. non è necessario di esperienza di IT. Quindi, quando un cliente soffrono di un problema, si trasferisce automaticamente a una pagina di blocchi. dopo il risultato del servizio, abbiamo bloccato più di 1 milione di attacchi. Questo è un numero impressionante, che mostra come questo servizio è effettivo per i nostri clienti. la miglior protezione contro la ciberattacchi è la prevenzione. E il mobile TeamSafe, guidato da Cisco Umbrella, è la risposta giusta. è la risposta giusta. È la risposta giusta. la risposta giusta.